prenderemo un brano dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8 e vedremo che cosa il Signore ci può dire prendendo dalla sua parola la sua parola sul far del giorno Gesù tornò nel tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli postosi a sedere li ammaestrava e allora gli iscrivi e i farisei gli portarono una donna colta in adulterio e fatta la stare in mezzo gli dissero maestro questa donna è stata colta in flagrante adulterio ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali e tu che ne dici ora dicevano questo per metterlo alla prova per poterlo accusare ma Gesù chinatosi si mise a scrivere col dito in terra e siccome continuavano a interrogarlo egli alzatosi disse loro chi di voi e senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva in terra ed essi udito ciò e ripresi dalla loro coscienza si misero ad uscire ad uno ad uno cominciando dai più vecchi fino agli ultimi e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo e Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna le disse donna dove sono quei tuoi accusatori nessuno ti ha condannata ed ella rispose nessuno signore e Gesù le disse neppure io ti condanno vai e non peccare più questa è la storia una cosa molto particolare questa è mattino presto e troviamo qui un gruppo di persone che si incontra nel tempio e ognuno di queste categorie di persone ha un motivo diverso perché sia lì e qui troviamo gli iscrivi gli iscrivi erano i dottori del tempo le persone le dotte coloro alle quali era stata tramandata la mansione di ricopiare fedelmente le scritture ed altri testi sacri troviamo i farisei i farisei che erano la setta religiosa ebraica più più stretta più attaccata alla tradizione più legata alla legge coloro che in virtù di questa loro considerazione di se stessi non volevano mescolarsi agli altri al popolo in quanto si ritenevano l'elite la crema del popolo e avevano di conseguenza paura di contaminarsi nello stare eventualmente insieme troviamo il popolo nel tempio e mattino presto c'è qualcuno che è interessato ad ascoltare Gesù e poi troviamo Gesù e troviamo appunto questa situazione stranissima troviamo questa donna che viene trascinata nel tempio probabilmente seminuda trascinata da questi religiosi questi iscrivi e questi farisei che prendono questa donna colta in flagrante adulterio e la portano a Gesù questa è la situazione dicevo prima che non è di allora è la situazione di oggi è la situazione nostra questa donna in qualche modo raffigura qualsiasi di noi qualsiasi di voi condizione di estrema condizione di miseria vuol dire essere pescati con le mani nel sacco in quanto adulteri in questo caso ma potrebbe essere una qualsiasi altra situazione di errore di deviazione dal percorso prestabilito da dio e lì siamo stati colti ciascuno di noi con le mani nel sacco da qualche religioso probabilmente il quale anziché insegnarci la via anziché additarci il cristo ci ha presi ci ha trascinati con turbolenza con violenza ci ha trascinati davanti a qualcuno che avrebbe dovuto giudicare e questa è la situazione ci sono questi accusatori che hanno volontà di di mettere con le spalle al muro Gesù in questo momento non tanto forse quella povera donna ma dicevo quella donna vediamola come fossimo noi stessi noi probabilmente non siamo stati colti in una situazione di adulterio ma è scritto nella parola di dio che non c'è uno che sia giusto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di dio ed è scritto ancora in un altro posto in un altro modo è scritto che il salario del peccato la retribuzione del peccato è la morte ma il dono di dio è la vita eterna in cristo gesù alleluia capite di conseguenza l'uomo e questa donna è solamente un esempio è in una condizione di peccato e noi possiamo raffigurarci appunto con questa questa persona ci vediamo qui vediamo qui questi accusatori che l'hanno trascinata gesù e sembra che stiano facendo qualcosa di buono perché dicono maestro questa donna è stata colta in questa situazione di flagrante adulterio ora mose chi meglio di lui mose nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali e tu che cosa ne dici sembra quasi un atto di buona volontà abbiamo qui il maestro abbiamo qui gesù che cosa c'è di meglio che non portare questa donna gesù e sentire lui che cosa ne pensa qualcuno potrebbe pensare che sia appunto un buon proposito ma la scrittura dice qualcosa di più chiaro dice hanno fatto questo perché lo volevano accusare fratelli miei davanti amici miei davanti a questa considerazione davanti alla possibilità di lapidare una donna davanti alla possibilità di avere un altro momento di spettacolo pubblico queste persone si sentono rispondere da dio chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra questa è la giustizia di dio questo è l'amore di dio questa è la verità di gesù che mette allo sbaraglio questi suoi accusatori i quali uno a uno con punti nella propria coscienza dice il vangelo se ne escono da quel luogo dal tempio perché non hanno possibilità di replicare dicevo prima che nessuno di noi può considerarsi giusto tutti noi siamo peccatori tutti quanti noi abbiamo infranto e continuiamo a farlo la legge di dio e ci troviamo nella condizione qui di essere quella donna quella donna che non può essere giudicata da quegli accusatori e che si ritrova davanti a gesù è bello leggere questa considerazione gesù che a un certo punto rialza i suoi occhi immagina di trovare qualcuno e invece non c'è più nessuno c'è solamente quella donna non c'è più nessuno tra te e gesù non ci sono gli altri che possono prendere magari qualche decisione per te non ci sono più gli altri che ti possono magari tutelare o offendere come in questo caso ci sei tu e gesù non ci sono veli nel frattempo e tu sei lì davanti perché qualcuno ti stava giudicando e gesù invece lo scopri essere un dio totalmente diverso da quello che ti aspettavi perché lui ha detto io non sono venuto per giudicare il mondo ma sono venuto per salvare coloro che erano periti coloro che erano morti spiritualmente e qui questa donna si trova probabilmente lì terrorizzata impaurita perché qualcuno la dovrà pur giudicare secondo la legge ma questo qualcuno si dimostra essere totalmente nuovo totalmente diverso e la risposta di gesù è questa donna dove sono quei tuoi accusatori dove sono finiti i nostri accusatori quando siamo davanti a gesù nessuno ti ha condannata ed è la risposta è nessuno signore e forse ancora lì stava aspettando una condanna la legge lo prevedeva ma gesù le disse neppure io ti condanno vai e non peccare più alleluia che cosa vogliamo fare di questa risposta di gesù neppure io ti condanno fratelli miei qualcuno doveva rispondere di questo gesù non infranse in questa maniera la legge ma assolse questa donna sapendo un fatto che da lì a pochi giorni lui avrebbe portato sulla croce il peccato di questa donna cosa che ha fatto puntualmente e così la legge è stata fatta salva la legge è stata rispettata qualcuno è morto per quella donna ed è stato gesù che ha preso il peso di quella donna e lo ha portato sulla croce con sé e c'è un programma di liberazione di libertà abbiamo sentito da una delle testimonianze di poc'anzi essere liberati come un mattone che ci assediava che ci scoppiava dentro ci pesava sopra ed è stato tolto liberati da questo e posti nella condizione di poter esprimere una nuova nostra condizione di vita nel Signore donna neppure io ti condanno vai e non peccare più la Bibbia dice che io dice il Signore cambierò il cuore di pietra che tu hai in un cuore di carne in un cuore nuovo grazie a tutti grazie a tutti